Fenerbahce significa la squadra che in questo momento è solitaria in testa alla classifica di Eurolega, una sola sconfitta, peraltro in una partita con l'Efes dove all'inizio stagione conduceva con grande margine fino all'intervallo, quindi più un momento particolare loro con la sconfitta, una squadra che poi storicamente negli ultimi anni tiene il suo fattore campo in maniera quasi impressionante come rullino di marcia ed è una squadra di assoluta fisicità, quindi quello sarà il primo ostacolo, una squadra che tende a frantumarti possesso dopo possesso, sia dal punto di vista offensivo dove alla ricerca continua di mismatch spalle a canestro con non soltanto i loro lunghi, i 5, i 4, ma anche negli altri spot perché possono portare in post basso ovviamente i 3 con i Kalinic, i 2 con Guduric o addirittura come hanno fatto anche nell'ultima partita, anche proporre quintetti altissimi con Kalinic da 2 e Niccolò Melli da 3, insomma una squadra che ti costringe a dover fare un extra sforzo e proteggere l'area e se lo fai poi è assolutamente in grado invece di liberare dei tiratori con i piedi in terra che sono letali a partire da Gigi da Tome che conosciamo a tutti gli altri tirando anche come hanno fatto nell'ultima vittoria in casa del Panathinaikos quasi al 62% a 3 punti. Poi ci sono i pick and roll ovviamente di Slukas e di Dixon che sono le altre cose da arginare che servono sia per innescare i lunghi che per i tiratori ancora una volta sul perimetro oppure concludere proprio questi due giocatori per loro stessi. Una squadra che non ha in questo momento oggettivamente punti deboli e quindi è una di quelle cose in cui nessuno magari punta un euro su una nostra vittoria o una nostra capacità di restare in partita. Noi ancora senza Nedovic però cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente e vogliamo dare un senso su ogni singolo possesso nel cercare di veramente di resistere il più possibile e di fare una prova di orgoglio. Una prova perché questo è il nostro senso in Eurolega. Ci aspettano nelle prossime quattro partite prima del giorno di andata tre trasferte durissime, una in casa con una squadra estremamente fisica e solida come il Bayern e noi dobbiamo uscire da questo periodo problematico di infortuni e di poche energie più forti, quindi con grande mentalità, con grande voglia di combattere perché tutto quello che riusciamo a fare in momenti come questi non solo in termini di risultati ma proprio in in termini di durezza, di crescita, di compattezza nello stare insieme nelle difficoltà, nei momenti di difficoltà massima perché giochi contro i migliori, questo ci deve dare, ci deve rendere una squadra più completa, una squadra più efficace nella seconda parte di stagione, una squadra che prosegue nel suo percorso di crescita e questo è l'obiettivo. Sappiamo che magari la nostra palacanestro pensata dovrebbe essere un'altra, ma anche qui pur con qualche protagonista acciaccato o qualcuno importante che non c'è, dobbiamo provare anche noi a avere la nostra fluidità, il nostro ritmo, a cercare di essere noi a tenere un po' i ritmi che ci sono più congeniali invece che farti stritolare sia in attacco sia come dicevo prima difensivamente perché questa taglia fisica con i loro show aggressivi o con i loro cambi sistematici che possono fare in cinque tende poi a, in una difesa che man mano che crescono e passano i secondi diventa sempre più forte, è sempre più dura, è sempre più efficace e noi invece testarci su questo per mantenere un'identità di gioco, cercare di mantenere il più possibile fluidità, se riusciamo a farlo e per quanto riusciamo a farlo anche in un contesto del genere ci renderà sicuramente una squadra migliore, quindi non pensare ad altro se non a giocare ogni singolo possesso al massimo perché a prescindere dal risultato questo pagherà per noi presto e mi auguro in un futuro prossimo, se viceversa siamo bravi a stare attaccati alla partita in fondo poi dobbiamo anche prima o poi provare a fare colpi dove capita e anche se questo magari dipenderà anche dalla giornata degli altri dobbiamo essere pronti a approfittare.